Bene, io pian piano partirei. Entriamo nel... Entriamo, poi qui intanto la gente pian piano entra, poi aumenta, però se aspettiamo tutti... Ma gestisci tu quindi le entrate, i commenti... Sono liberi, sono liberi. Adesso do la parola a Rossana, io vi do il saluto romano, vi ricordo che Valentina, e l'abbiamo conosciuta un qualche anno fa, quando ha presentato il libro noi racconti a due voci tra Italia e Ticino, insieme a Marco Jaitziner, giusto? Jaitziner, sì, va bene, va bene. È complicata la produzione. Allora non eravamo in Covid, eravamo in presenza, eravamo al Vittorio, tutta un'altra cosa. Purtroppo il Vittorio ancora non ha riaperto, perché il BIRT è deceduto, quindi la proprietà sembra che abbia cambiato per il proprietario. Adesso stiamo a vedere che succederà. Bene, allora io vi ringrazio, poi ci risentiremo alla fine per i saluti. Do la parola a Rossana Dedola, che sarà il moderatore della salata. Ciao, Rossana. Ciao, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che parte dal libro di Valentina Giuliani Il Museo degli Amori Perduti, con l'illustrazione di Barbara Feisler, presentazione di Sergio Roic. è uscito dall'editore Armando Dadò di Lugano, credo che sia, Locarno. Locarno. Ecco, è uscito nel 21. Ecco, io l'ho letto con interesse e mi ha colpito il fatto che sia uscito un libro di racconti con le illustrazioni, ma in genere non succede per adulti, no? Quindi le illustrazioni spesso le troviamo nei libri per bambini e è difficile trovarle in libri di racconti. Quindi è interessante e volevo chiedere a Barbara Feisler se per il disegno che illustra la lettera d'amore si è ispirata alla morte di Marat. Non posso negare. Ecco, quindi entriamo in un museo, con questo libro entriamo in un museo, il Museo degli Amori Perduti. Io intanto voglio ricordare che Valentina Giuliani è nata a Pisa e ha studiato germanistica a Firenze e poi ha fatto una carriera come editor nell'editoria scolastica. Quindi ha lavorato nell'editoria scolastica prima a Firenze e poi a Milano e poi si è trasferita in Ticino e in Ticino ha cominciato ad insegnare, quindi la sua attività principale è l'insegnamento e si è cimentata con la scrittura da poco, scoprendo un lato di sé molto interessante. Credo che questo libro lo dimostri. Mi ha colpito molto. Oggi ci siamo parlate, ci siamo conosciute prima di questo incontro. vi ho detto che all'inizio ero un po' perplessa, ve lo dico sinceramente, perché questi racconti brevi non hanno dei veri e propri personaggi, nel senso che in alcuni sappiamo solo il nome, non sappiamo l'età, non sappiamo se sono alti e bassi, grassi, che età hanno. Di alcuni sì, ma non di tutti. Quindi non sappiamo il contesto preciso perché non li colloca in una città oppure li colloca in una città, ma insomma... E quindi io all'inizio ero un po' perplessa, invece continuando a leggere mi sono appassionata sempre di più, perché in realtà entriamo in un mondo di sentimenti. Ecco, questo... L'entrata in questo museo ci permette di confrontarci con un mondo di sentimenti complessi. Io vorrei fare subito una domanda a Valentina Giuliani perché ha deciso di collocare questi racconti all'interno di un museo e questi amori perduti all'interno di un museo. Io so che c'è un museo che raccoglie i propri oggetti legati agli amori perduti, ma tu che ti sei ispirata proprio, se ti sei lasciata ispirare da questo museo, potresti raccontarci come questo museo è entrato nei tuoi interessi e come il tuo libro si ispira a questo museo. Sì, eccomi. Mi sentite? Allora, intanto grazie, grazie per l'invito e piacevolissimo, anche se a distanza almeno vedervi in viso, perché ci siamo sentiti al telefono ma ancora non ci eravamo conosciuti. Sì, il mio museo prende proprio spunto, come dicevi tu, da un museo che esiste a Zagabria, che è il Museo degli Amori Perduti e che è un, anzi delle relazioni interrotte si chiama esattamente, ed è un museo che hanno voluto due artisti, prima in coppia, due amanti, che poi finita la relazione si sono detti, ma noi le cose che ci siamo donati durante il nostro amore, che cosa ne facciamo? Le buttiamo, le restituiamo all'altro? e hanno deciso di conservarle in questo inizio di quello che sarebbe poi diventato il Museo delle Relazioni Interrotte, perché da quel momento hanno cominciato a raccogliere altri reperti del cuore, altre macerie di relazioni finite male, di relazioni interrotte, e questo museo di Zagabria ha cominciato a ingrandirsi, è diventato anche online, si possono vedere questi oggetti in una galleria virtuale, ci sono delle sedi a Los Angeles, ultimamente ho letto che anche in Italia, in Sardegna, in un piccolo paesino è nato un museo degli amori perduti. Questo cosa testimonia? Secondo me testimonia la necessità e la volontà di affrontare la delusione di un amore non con l'oblio, perché la società ci spinge a rimuovere il dolore, la sofferenza, a farci vedere sempre allegri, pimpanti, positivi, felici. Io se digito online delusione d'amore, mi vengono fuori tutti i consigli per dimenticare, per sopravvivere, per andare avanti senza soffrire. In realtà il ricordo che in questo libro è simboleggiato da un oggetto illustrato da Barbara Fessler, è, diciamo, il presupposto per poter andare avanti e aprirsi ad altre storie, ad altri amori, e diciamo che è, secondo me, una tappa fondamentale nell'evoluzione di ciascuno di noi. Quindi per me, come autrice, questo libro è stato anche terapeutico, nel senso che mi è servito per ripercorrere anche le mie delusioni e anche le mie, diciamo, fratture amorose. So che chi l'ha letto si è ritrovato, quindi il fatto che non ci sia una persona caratterizzata, un personaggio definito, un contesto preciso, permette anche forse una identificazione, no? Con questi sentimenti, con queste storie di rabbia, di invidia, di dolore, di passione, di tradimento, perché poi l'amore è declinato in tantissime storie diverse. C'è la storia di un amore omosessuale, c'è la storia di un tradimento, c'è la storia di un amore platonico, di un amore adolescenziale, quindi, come dire, le situazioni che questi racconti affrontano sono comunque molto, molto diverse. La forma scelta è quella del racconto breve, quindi gioco forza, non potevo illustrare, non avrei potuto illustrare nel dettaglio anche tutto il contesto, mi sono, come giustamente hai notato tu, concentrata sulla parte delle emozioni, dei sentimenti, quindi questo è al centro del libro. Ecco, come è nata l'idea di illustrare i singoli racconti? È nata dopo che avevi scritto i racconti o è nata durante la scrittura? Contestualmente, nel senso che proprio nella mia idea c'era partire dall'oggetto che diventa il simbolo dell'inizio e della fine di quella storia d'amore. Infatti, oltre al titolo, che è semplicemente il nome di un oggetto, le tazzine, la sciarpa, la fotografia, eccetera, quindi abbiamo lo scaffale, la teca, dove viene custodito questo oggetto, l'oggetto stesso e poi il racconto. Quindi si parte da lì e allora non ho scritto prima il racconto, ho chiamato subito Barbara Fessler e le ho chiesto se sulla base di queste storie riusciva a sintetizzare in un'immagine il contenuto pregnante, il contenuto più importante e lei mi ha detto, per fortuna mi ha detto di sì. Sì, quindi la ringrazio anche perché questi disegni, pur nella loro essenzialità, secondo me sono molto significativi. Noi abbiamo solo il bianco e nero, poi magari Barbara ci racconterai come tecnicamente anche che stile e che tecniche hai usato, ma diciamo sono disegni in bianco e nero molto semplici e molto pregnanti, quindi l'oggetto è un simbolo che ha un forte significato nella storia e come tale doveva essere rappresentato, senza fronzoli, diciamo, nella sua essenzialità. Sì, in alcuni casi l'oggetto ha una grande forza, per esempio nel racconto la tazzina mi sembra, o le tazzine, ora non mi ricordo se ha il plurale. Ah, aspetta che ti dico. Ecco, qui quel racconto è un plurale, senza articolo, senza articolo, tazzine. È interessante perché come segno d'amore i due innamorati avevano fatto fare da un ceramista, se mi ricordo bene, due tazzine molto particolari, con dei manici particolari che si rebevano l'un l'altro. Ecco, quando... Si sente male. Si sente male. Si sente un eco. Si sente male. Bisogna staccare il microfono. Quando quest'amore poi finisce, si tratta di un marito e moglie che hanno anche una bambina, e quindi mentre l'amore sta finendo, una delle tazze cade, delle tazzine cade, il padre cerca di rimetterla insieme, anche la figlia. Purtroppo però questa tazzina non ha più la funzione che aveva prima, cioè di sorreggere l'altra. Le due tazzine non si sorreggono più. È un po' come un'immagine che riflette la situazione della coppia che non può più reggere il rapporto. Ecco, però è interessante appunto questo oggetto che resta dopo la fine dell'amore e la figlia che è piccola, una bambina, capisce in qualche modo che l'affetto dei genitori per lei continuerà, ma tra loro due non ci può essere più l'amore di prima, proprio anche grazie alla tazzina, che non è più come quella di prima, insomma. Quindi è interessante vedere come gli oggetti acquistano di colpo un'importanza. Anche questi oggetti che vengono donati come segno di un amore eterno, come la sciarpa, ecco, che doveva, questa sciarpa che doveva durare per l'eternità e poi è arrivato l'inverno, l'amore è già finito. Ecco, quindi resta questo oggetto un po' che non si può più utilizzare, come si sperava di poterlo utilizzare prima per tutta la vita, perché è simbolo di amore. Ma dove collocare questi oggetti che non si possono più maneggiare come prima e che sono carichi di significato. Ecco, il fatto è che è difficile poter fare un vero museo di tutti questi oggetti, perché ognuno di noi, quanti siamo sul pianeta Terra, credo che abbia un oggetto da dovere, se non di più, no? Perché purtroppo non è detto che il primo amore sia l'ultimo, quindi ci trasciniamo, noi esseri umani, alcuni oggetti che non sappiamo più dove. Quindi dovrebbe essere un museo enorme, quasi, che corrisse. Questo per dire che l'umanità, appunto, l'amore è il sentimento che ci accomuna a tutti. quando viviamo questi momenti di crisi, ci sembra di essere gli unici a vivere il dolore, mentre i tuoi racconti, facendoci vedere che cosa succede quando l'amore è finito, ci fanno capire che siamo tutti nella stessa situazione, cioè che tutti hanno vissuto queste storie, tutti sono passati attraverso quel dolore, tutti hanno avuto degli oggetti che consideravano importantissime e di colpo non sanno più che farne. Ecco, quindi penso che sia un tema molto importante e che il tuo libro riveli anche un fondo terapeutico, perché confrontandoci con questa somiglianza che appartiene a tutti, in fondo riusciamo anche a relativizzare dei sentimenti che quando vengono vissuti, soprattutto se siamo ai primi amori, sembrano inconsolabili. Ecco, quindi mi sembra molto interessante leggere questi racconti, perché ogni racconto mostra una sfaccettatura di questa situazione. Per tornare alle tazzine, poi non so se Barbara è ancora collegata e ci vuol dire qualcosa, sì, eccola, sui disegni, questi oggetti sono fortemente simbolici, perché come dicevi tu, sono stati creati apposta per la coppia, Marina e Matteo, e le due M, c'è proprio il disegno, vanno a incastrarsi come M che poi messe, diciamo, sono uguali alla sommatoria, al simbolo matematico della somma, quindi c'è tutto un discorso di studio su queste tazzine con una dedica particolare, eccetera. Sono lo strumento di cui si servirà il padre per comunicare alla figlia la rottura di questo matrimonio. Noi, diciamo, spero che non ci sia nessun avvocato divorzista collegato con noi, però il tema, per esempio, della gestione della fine di un rapporto amoroso quando ci sono i figli è un tema molto scottante, che spesso, diciamo, i genitori fanno fatica a gestire. Quindi come raccontare, quali parole utilizzare per dire al proprio figlio che non si potrà più stare insieme come sperato per tutta la vita. Allora, le scamotage delle tazze che si rompono e che, anche se proviamo a rincollarle, recano la traccia di questi cocci, di questa impossibilità di ricomporsi come originariamente erano, è una metafora per poter raccontare alla figlia ancora giovane di questo fallimento amoroso. Quindi in questo caso specifico c'è anche la storia come parole giuste per poter raccontare una fine di un matrimonio. Barbara, dici tu sul disegno qualcosa anche. Beh, l'ho trovato interessante quando ha detto prima che è la prima volta che vede dei racconti così, con illustrazioni, sarebbe bello. Vorrebbe dire che avremmo creato un nuovo genere. Non ero consapevole di questo. Però mi piace. Penso che queste immagini riprendano molto bene questo lato simbolico che hanno gli oggetti. Gli oggetti, io sono convinta, in generale, ma particolarmente in questa circostanza possono diventare cariche di memorie, di ricordi, di uno spazio che è finito, uno spazio che, come posso dire, è cambiato, che è passato, appunto, che è finito nel passato. Ecco, quello volevo dire. E penso che un'immagine apra un altro spazio, uno spazio di pensiero, di memoria, uno spazio poetico che funzioni in una maniera diversa della parola. e quindi penso che le due cose si sposino bene. La tecnica, mi avete chiesto prima, la tecnica che ho usato è la tecnica in realtà rinascimentale. Se voi avete in mente certi disegni rinascimentali, si facevano su delle carte che erano a mezzo tono, che non erano bianche, neanche nere. e su questo tipo di carta io ho usato il grigio, ma potrebbe essere anche un marroncino, un seppia, eccetera, consentono di dipingerci o disegnarci sia con il nero che con il bianco, quindi di posare le luci. E questo le dà un aspetto più profondo, secondo me, rispetto al disegno nero sulla carta bianca. Perché questa scelta? Perché sapevo che si stampava in bianco e nero, semplicemente. Io aggiungo che, avendo lavorato vent'anni in editoria, che ormai quasi tutti i disegnatori fanno i disegni al computer, per carità, benedicemi, però Barbara si è impegnata a farli a mano, uno per uno, che è, diciamo, un'altra cosa. C'è anche quell'imprecisione o quella diversità, no, tra l'altro, che secondo me sono un valore aggiunto rispetto all'omologazione, alla standardizzazione di un disegno fatto al computer. E devo anche dire che mi sono molto rilassata facendo, avevo proprio voglia di toccare, perché io sono moltissimo al computer, scrivo anche, lavoro molto al computer e a volte mi manca la carta, mi manca il pennello, mi manca la sensualità del materiale, diciamo, anche in questo senso era una scelta che proprio avevo bisogno di questo. Bene, grazie, molto interessante, sarebbe bello vedere gli originali una volta. Sono da me. a proposito degli oggetti, mi è venuta in mente in questo momento una storia buffa che avevo letto su un libro che un artista aveva messo insieme parlando di alcuni oggetti con cui si era dovuta confrontare. Per esempio, un lettore le aveva detto che voleva dormire nel suo letto, le aveva scritto una lettera dicendo io vorrei dormire nel suo letto, quindi il letto è importante, in quel caso lei che cosa ha fatto? Ha impacchettato il letto e glielo ha spedito e gli ha detto quando ha finito per favore me lo rimandi perché ci tengo tanto e dormo molto bene in questo letto. Ecco, quindi una cosa molto divertente perché sdrammatizza la richiesta che sembrava un po' troppo intima, lei accetta che il desiderio venga realizzato, quindi glielo spedisce e poi se lo fa rispedire. Ma se posso intervenire su questa storia divertente, il catalogo del museo delle relazioni interrotte da cui poi è partito tutto perché io non sono mai stata fisicamente in questo museo di Zagabria essendo che ho scritto questo testo durante il covid, proprio la prima ondata quindi eravamo tutti barricati in casa, però il catalogo l'avevo in libreria e ci sono delle didascalie che accompagnano questi oggetti veramente esilaranti tipo c'è una lattina con scritto incenso d'amor e sotto non ha funzionato. Poi c'è un detergente intimo uomo tipo carinzia uomo la bottiglietta e sotto da quando ci siamo lasciati mia madre lo usa per pulire i pavimenti ed è eccezionale quindi come dire non tutte poi non tutte le didascalie che accompagnano gli oggetti di questo museo sono poi improntate alla cupezza alla tristezza e se posso ritornare al libro anche le storie che io propongo io spero almeno questo era la mia il mio intento sono tutt'altro che drammatiche cupe tristi e diciamo in una specie di pessimismo e di dramma collettivo ma sono pieni di brio di vivacità di voglia di ricominciare tant'è vero che la dedica a questo libro è all'amore ritrovato e quindi le esperienze fallimentari che tutti noi come ricordavi abbiamo vissuto non devono non devono diciamo precluderci ad altre esperienze ad altri amori ad altri incontri ma essere invece quella forza di consapevolezza che ci deve accompagnare negli incontri no in questo senso perché magari si può pensare caspita quattordici storie di amori andati a finire male che tristezza alla fine del libro mi sparo no no non è così io spero almeno il mio intento è stato questo di aver fotografato in questi racconti brevi delle situazioni diverse di sentimenti e di emozioni diverse ma sempre nell'ottica della del rimanere curiosi verso la vita e di buttarsi anche in nuove esperienze quindi amore che finisce non significa rimanere ancorati al passato e chiudersi verso altri amori questo è il messaggio diciamo in sintesi ecco mi ha colpito il fatto che tu tra questi amori collochi anche quelli che non sono mai nati ecco però anche questi amori non corrisposti possono avere degli oggetti a cui si aggrappano e che poi restano lì perché anche questi amori non corrisposti ad un certo punto finiscono quindi questo è interessante mi sembra che un racconto no di dei compagni di scuola in cui la ragazza si innamora del compagno di scuola che ad un certo punto viene trasferito da un'altra parte quindi lei non lo rivede più esatto non inizia ma finisce esatto l'oggetto in questo caso è una foto di classe che questa ragazza di liceo riprende in mano quando già è più adulta e vede questo suo innamorato che si mette una mano sul volto e lei che lo guarda e che lo cerca perché poi la storia di questo amore adolescenziale è una storia di di inseguimenti cioè lei lo cerca ma lui fugge lei lo ama ma lui non la considera spesso succede anche così amori non corrisposti stiamo parlando appunto di un'età adolescenziale foto di classe ripeto è quella di una classe di liceo quindi un amore platonico non per questo meno doloroso perché poi è un amore vissuto anche nei suoi eccessi nel dramma mi ha guardato mi ha scritto mi ha mandato un sms oggi c'è quindi vissuto molto nella nella fantasia nell'immaginazione della protagonista ma secondo me abbastanza realistico io almeno insegno a scuola e vedo queste storie anche tragico comiche di di questi amori che sembra siano appunto con grandi grandi patimenti grandi pene no pene del cuore quindi questo racconto e poi ce n'è un altro che si chiama la bottiglia di cui devo dire l'illustrazione di Barbara è veramente molto bella e pregnante perché non c'è la bottiglia in realtà ma ci sono dei tacchi a spillo poi magari spiegheremo perché che invece è la difficoltà di esprimere il proprio amore e la diciamo e la ricerca di una fuga in questo caso la fuga è nel bere è nell'alcol per superare la timidezza per superare l'essere impacciati che però poi diventa purtroppo una via quasi senza uscita nel senso questo è forse il racconto un po' più tragico di quelli che ho che ho scritto che è il racconto di una di una dipendenza poi alla fine dell'alcol che nasce anche per un per un amore non confessato e non non vissuto sì è molto interessante anche perché il fatto che appunto facendo vedere che tutti finiscono questi amori il e che quindi non è il dramma ad una sola persona ma il dramma di tutti e quindi il lettore si riconosce perché anche il lettore o la lettrice ha vissuto storie così simili e tu fai vedere proprio la diversità di queste storie ma nella diversità hanno tutte qualcosa di simile anche la storia del lei che si innamora del ragazzo omosessuale che in qualche modo sembra quasi corrisponderla all'inizio perché anche lui vorrebbe avere un amore poi alla fine si accorgono entrambi che è impossibile ecco quindi questa far vedere come l'amore inizia e non sai chi è la persona che hai davanti non sai se è quella giusta non sai se quell'amore potrà andare avanti non sai quante proiezioni sono state compiute e a causa di queste proiezioni non riesce a vedere veramente la persona che hai davanti a te ecco è un libro che si presta anche appunto io dicevo che ha quasi una finalità terapeutica la lettura perché appunto vedendo come vanno a finire queste storie si riesce a vedere l'aspetto relativo di questi rapporti in una situazione in cui invece si è proprio perché l'innamoramento ti fa precipitare una condizione d'assoluto l'innamoramento è un sentimento quasi oceanico direi in cui ci si può perdere invece vedendo come finiscono tutte queste storie come dicevi anche tu le didascalie del museo che possono essere isilaranti tanto le situazioni poi alla fine diventano quasi ridicole ti costringono a ridimensionare tutto quindi a relativizzare questa questo dramma che sembra quasi non aver confini no? questa disperazione totale ecco quindi questo è molto catartico direi assolutamente io l'ho detto per me è stato terapeutico scriverlo poi visto che Rossana possiamo dirlo è un ex analista giusto? mi dicevi al telefono sì a noi non siamo mai ex ah beh ecco quindi detto detto da te che sono analista junghiana dell'istituto di Turin poi Pellac International School of Analytical Psychology quindi di Chapeau diciamo che quello che è venuto da questa scrittura è assolutamente inconsapevole cioè il fatto che tu rilevi questo aspetto catartico nella lettura del libro comunque terapeutico che aiuta a minimizzare le proprie i propri dispiaceri e a diciamo avere uno sguardo più ampio è una è una bella cosa sono contenta è una bella chiave di lettura ripeto io mi sono approcciata a questo libro partendo c'è molto di autobiografico non svelerò quali racconti sono particolarmi sono particolarmente cari c'è un fondo autobiografico almeno uno che ti è caro senza allora quello delle tazzine sicuramente perché io ho un divorzio alle spalle quindi con tutto un approccio diciamo alla giurisprudenza un po' complesso con questi giudici che insomma in tribunale beh insomma poi morto un papa se ne fa un altro poi ci sono tutte le questioni economiche eccetera quindi una una visione poi di queste separazioni molto secca molto arida che io ho dovuto poi rielaborare per i miei figli in una maniera diciamo meno meno pesante quindi l'idea delle tazzine quella storia è sicuramente topografica poi ce ne sono ce ne sono altre ma questo per dire che questo libro non è stato scritto costruito a tavolino è veramente il frutto di una scrittura di getto molto secondo me autentica molto vera può darsi che abbia anche tanti limiti proprio per questo perché non è così studiata costruita calcolata ma è frutto proprio di una della volontà di stendere il lettore K.O. come dire come direbbe un grande scrittore di racconti brevi cioè non non è un testo non so se sei d'accordo nella lettura ti viene voglia di andare avanti e lo leggi tutto d'un fiato cioè non è un testo che ti impegna nel rimanere sulla pagina a lungo lo divori così perché perché è anche diciamo stemporaneo è una scrittura di getto quindi può piacere o non piacere io so che tu hai insegnato letteratura italiana alla normale di Pisa io sono ero molto preoccupata di questa intervista perché ripeto la mia è la mia prima prova narrativa perché di fatto ho solo scritto testi per la scuola manuali per la scolastica quindi questi racconti brevi sono proprio il primo tentativo dilettantesco di di fare qualcosa che ha a che vedere con la narrativa spero spero di aver fatto un lavoro ripeto in cui poi che sia piacevole ci sia una una identificazione una immedesimazione e e che ci si possa ritrovare in queste storie eh quindi questo è l'augurio poi che sia terapeutico o no bisogna lasciare il lettore ce lo diranno coloro che leggeranno i testi per me lo è stato Barbara credo anche per te se non erro era un periodo un po' brutto anche il tuo quando hai fatto questi disegni diciamo che la tua richiesta è caduta a fagiolo proprio quindi ero molto motivata a fare questi disegni e di farti mi sono impegnata bene ecco a proposito di Pisa visto che abbiamo in comune questa città io perché ho studiato a Pisa e ho insegnato a Pisa all'università e tu perché sei nata a Pisa sì da Pisa sei finita in Ticino poi sì appunto ho fatto un sempre più a nord da Pisa a Firenze ho studiato a Firenze come ricordavi prima sono laureata in germanistica quindi comunque ho studiato tedesco poi mi sono trasferita a Milano per amore perché poi sembra strano ma l'amore è veramente il motore di tante scelte e di tante di tanti accadimenti quindi io mi sono sposata con un milanese mi sono trasferita a Milano e poi in seguito sono arrivata in Ticino vivo in Ticino da una decina d'anni e ho sposato uno svizzero sono mio secondo secondo giro spero spero che finisca qua che non ci siamo è un terzo perché e quindi sono appunto sono anche molto contenta di essere qui al circolo di essere con voi al circolo svizzero di Roma perché le mie due patrie nei miei due paesi la Svizzera e l'Italia sono sempre vivi e fanno da come dire da cornice un po' a tutta la mia la mia attività io sono spesso tra Milano e Lugano come tra l'altro Barbara spesso tra Zurigo e Milano come credo anche tu ti dividi tra Roma non so in Svizzera dov'è che hai il punto di riferimento comunque sì in Svizzera in Ticino vero tu sei in Svizzera Teresa ho lavorato tanto a Zurico e avevo il mio studio a Zurico però ora il punto di riferimento è a Rao perché mio marito è di Rao ma io frequento la Central Bibliotheque che quindi quando devo fare delle ricerche vado sempre a Zurico alla Central Bibliotheque quindi abbiamo diciamo che noi tre donne abbiamo in comune è interessante questo fatto di siamo in comune questo essere così esserci immerse in una nuova cultura averla assimilata molto assolutamente anche attraverso l'amore per il marito in questo caso quindi conoscere un'altra lingua un'altra cultura ecco assolutamente no infatti è per te è stato importante anche per trovare un editore perché in effetti in Italia è molto difficile i racconti brevi proprio non trovano editore sono rarissimi io ho avuto la fortuna di leggere e di recensire dei racconti brevi che mi erano piaciuti tantissimo di uno scrittore pisano che si chiama Luca Ricci allora non era conosciuto e io li ho trovati bellissimi era è intitolato il suo libro sull'amore e altre specie di odio e anche questo è molto è molto bello e dopo di che lui è diventato famoso ora sta a Roma speriamo che mi porti fortuna questa tua questa tua intervista no io devo dire sta a Roma e ogni tanto torna a Pisa è un pisana a Roma insomma non è facile io sul racconto devo dire devo spezzare una lancia a parte che non sarei penso in grado di scrivere un romanzo non è nelle mie corde cioè io proprio amo le kurzgeschichten sia come lettrice che come diciamo autrice ma leggevo ultimamente da pochissimo credo un mese è nata proprio una casa editrice in Italia che si chiama Tetra che pubblica soltanto racconti quindi questo genere così bistrattato in Italia in realtà secondo me ha in questo momento proprio storico ha un momento di conosce un momento di revival di fortuna anche perché spesso questi racconti si accompagnano a delle da dei prodotti tipo podcast no quindi a delle registrazioni che si possono sentire in auto in radio anche facendo altro e penso che sia anche non dico il futuro però che sia una strada da percorrere perché poi le persone hanno spesso poco tempo da dedicare alla lettura e quindi il fatto del racconto breve si concilia un po' con questa frenesia del nostro vivere quotidiano io vedo ho tanti anche anche miei studenti o anche colleghi che dice guarda lo leggo ma quante pagine ha leggo il libro ma lo misurano in pagine ma anche gli articoli nei giornali tempo stimato di lettura 5 minuti 6 minuti cioè il tema del romanzo quello dell'ottocento quello bello carico impegnativo e di una scrittura diciamo che si dipana su più pagine è una è una question insomma secondo me ultimamente viene anche affiancato per esempio io penso un bellissimo una bellissima raccolta di racconti scritta da un da un italiano che vive a Lugano che è in Svizzera che è tra l'altro un collega al liceo che si chiama Le stelle vicine facciamo un po' di pubblicità anche a questo amico di Massimo Ghezzi che tra l'altro era in Lizza per il premio Strega poi alla fine non è stato scelto tra i tra i finalisti però anche in quel caso diciamo sono si tratta di raccolte di racconti di 3-4 pagine quindi probabilmente anche bisogna dare un po' di tempo al mercato perché si riesca di nuovo a valorizzare questa forma qua che ha molto successo in paesi anglofoni no? Sì infatti le short stories credo che Luca Ricci che poi si è cimentato con il romanzo ha scritto vari romanzi proprio perché si è accorto che i racconti brevi non non andavano credo che siano stati gli editori anzi a dirglielo per cui lui poi si è cimentato e ha fatto bene perché ha ottenuto dei risultati importanti però ora credo che abbia deciso di tornare alla forma breve quindi devo dire la verità anche a me gli editori gli editori adesso un editore che è Armando da Do chiede il romanzo altri editori chiedono il giallo perché almeno vanno sul sicuro che qualche vendita in più riescono a guadagnarla il tema è che secondo me uno scrive quello per il quale si sente maggiormente portato in sintonia rispetto nel mio caso io piuttosto appunto oltre a racconto breve sono diciamo scrivo anche delle poesie che tra l'altro sono in una di queste storie e la storia murales in versi presenta oltre a una parte di prosa un 6-7 poesie d'amore e quindi l'aspetto intimo intimista l'aspetto lirico introspettivo sono diciamo fanno un po' da guida la mia scrittura ripeto non sarei in grado di costruire proprio una trama che che abbraccia l'ampiezza di un romanzo quindi me lo possono anche chiedere ma al momento non non è nei miei progetti mentre è nei miei progetti una una specie di seguito diciamo di questo libro che si chiama dovrebbe uscire quest'estate la biblioteca umana e quindi anche qui storie di umanità di una diversa umanità più o meno diciamo della della lunghezza di queste che ho proposto nel museo degli amori perduti ci aggiorneremo faremo un'altra presentazione il prossimo anno per il nuovo libro no vabbè questo è anticipazioni sarò a soletta sarò questo ci tengo a dire sarò al festival di soletta che va dal 27 maggio sono 3-4 giorni fino al 29 sono state invitata appunto a leggere alcune storie da questo museo e sono particolarmente onorata perché so primo che è il festival più importante della Svizzera Barbara mi potrà confermare e che dal Ticino sono state invitate soltanto 8 8 scrittori tra l'altro per generi diversi quindi poesia prosa racconti per infanzia eccetera per cui ancora di più onorata e grata a questo paese che mi ha accolto e che mi così mi dà queste opportunità perché ripeto in Italia sono d'accordo con te Rossana c'è molta più concorrenza è molto più difficile pubblicare e mentre qua c'è anche diciamo ci sono delle sovvenzioni all'editoria voi lo sapete no però il Bezia ci sono ecco una serie di associazioni culturali di enti che aiutano gli editori nella pubblicazione dei libri in Italia purtroppo questa questi finanziamenti e questi sponsor non ci sono spesso sono gli autori stessi che devono comprare le copie prenderle in conto vendita metterci dei soldi soprattutto se sono autori sconosciuti alla prima purtroppo c'è questo fenomeno per cui ci sono editori che guadagnano facendosi pagare da io non nemmeno li chiamerei scrittori perché oggi tutti sembrano aver voglia di scrivere quindi c'è questo fenomeno io ritengo che sia giusto che un editore non faccia pagare gli autori altrimenti è tutta una finzione e non va bene volevo sapere se c'è qualcuno che vuol fare una domanda e quindi se perché non credo che lo abbiate letto visto che non è distribuito tanto in Italia mi ha detto Valentina allora io devo dire la verità nelle librerie bisogna proprio ordinarlo quindi poi ci sarà un tempo di una settimana per averlo molti miei amici milanesi che non l'hanno trovato in libreria l'hanno preso poi online quindi sui vari siti da Amazon eccetera ho visto che sul sito literature.ch che è il sito del festival di Soletta oltre alla mia immagine e a una spezzone tratto da un racconto del museo degli amori perduti c'è anche la possibilità di cliccare e comprare il libro lo stesso vale se ci si rivolge direttamente all'editore a Dado Armando Dado sul sito di Armando Dado si può acquistare il libro purtroppo la distribuzione in libreria essendo questo un editore ticinese e non un editore italiano in Italia è effettivamente complesso avevamo avuto lo stesso problema anche con l'altro libro fatto con Marco Jezziner quindi proprio dipende dal fatto che l'editore ticinese non ha una grande distribuzione non ha una distribuzione capillare in Italia però ormai tutti fanno online ci abitueremo anche a fare gli ordini che poi ti arriva a casa il libro insomma senza dover alzarci andare che è così bello andare nelle librerie a sfogliare i libri a sentire l'odore della carta a guardare tutto quello che è uscito ma niente in questo caso ci dovremmo accontentare di un click se volete se volete leggere io non ho non ho letto nessuna storia ma primo perché ci vedo malissimo e poi non sono come dire non sono né un'attrice né un'interprete e non so come potrei diciamo leggerle queste storie però forse due le potresti leggere cosa cosa ti ha colpito lo sa c'è una una racconda che ti ha colpita mi era piaciuta quella battuta vediamo se lo ritroviamo Barbara aiutami eh perché io lo dico io guarda l'ho trovata l'ho trovata allora la battuta a cui ti riferisci è questa quindi qui è una storia faccio una premessa è una storia di un amore omosessuale che viene diciamo vissuto ovviamente nella segretezza e inizialmente come un diciamo un compulsivo mandarsi messaggini a tutte le ore del giorno della notte eccetera senza però una convivenza o una routine o una quotidianità allora a un certo punto si dice dice a volte aspetta vediamo se ritrovano ok quando ti regalo una sciarpa con le firme dei miei messaggi da un lato e quelle dei tuoi dall'altro l'avvolgi al collo e mi dici la metterò per sempre non siamo sopravvissuti a quell'inverno c'erano da sistemare diverse cose quella che ti preoccupava di più era mettere a te stesso che non potevi più fingere che dovevi uscire allo scoperto cessare di nasconderti dietro alle parole osare essere te stesso e qui poi c'è tutta la parte in cui appunto lui deve accettare la sua omosessualità e deve fare i conti con questo aspetto poi la cosa carina è che in fondo al racconto c'è face A face B con tutti gli sms con le firme degli sms che si sono mandati 17 anni inquieto moroso molto impaziente tutte scritte come si firmano i ragazzi con gli sms l'altro uomo che fa sogni in grande e cerca di realizzarsi di realizzarli nonostante se stesso uomo in contraddizione ragazzo vorrei ma non posso innamorato assai e così via quindi ehm questa sciarpa ha porta non solo il calore dell'abbraccio della lana che ti avvolge ma anche tutte le testimonianze di questa corrispondenza di questa fitta corrispondenza di questa posta del cuore che viene riportata nella in questa sciarpa duple fasce da una parte i messaggi di uno e dall'altra i messaggi dell'altro quindi anche qui l'oggetto ha una sua importanza nella storia però ripeto io non sono brava nella lettura e poi magari molti alcuni hanno già letto non so lascerai spazio se c'è qualche domanda e poi magari ci ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo per il prossimo libro non so se ci sono domande io qui non vedo non sono capace di forse la amministratore che deve con il cioè ci sono c'è una domanda in chat o chi vuole può intervenire ma anche scrivendo o liberando il microfono è tutto aperto quindi chi vuole fare una domanda vuole intervenire può intervenire spazio aperto come a scuola no? quando tutti stanno zitti nessuno si propone non c'è nessuno magari non hanno letto il libro non hanno curiosità ci vuoi raccontare un'altra storia ci vuoi leggere un'altra storia che mi ha incuriosito molto questo ti leggo un passaggio ti leggo un altro passaggio che è abbastanza diciamo significativo che è nel racconto la smagliatura questo è un racconto di una ragazza giovane che per una storia d'amore che per lei è un grande amore ma per il ragazzo è un'avventura passeggera rimane rimane incinta e quindi c'è la sua adesso sto cercando scusate pagina c'è la sua storia sostanzialmente questa storia di un amore allora hai detto cose di classe ne abbiamo parlato la culla questa per esempio è una storia di purtroppo di una di una perita di un figlio invece perché l'amore non è solo amore ovviamente per il guarda pagina 36 brava che mi hai aiutato continua a spogliare come una patta allora non ci vedo niente sto diventando presbite purtroppo non voglio ok allora quella è proprio l'inizio del racconto quella smagliatura là al lato della coscia destra non l'aveva proprio vista adesso troneggiava prominente a rovinare mesi di palestra diete e cure estetiche alternative tradizionali con cui aveva convissuto fino all'altro ieri una linea bianca zigrinata con forma strana che dalla coscia risaliva in modo irregolare verso la chiappa ancora troppo molle sulla quale campeggiavano tutti gli inestetismi di un epidermide segnata da cellulite a puccia all'arancia rossori diffusi lividi brufoli vari francesca si guardava allo specchio perplessa e sconfortata la sua lotta verso la perfezione del lato b si annunciava più complessa e tortuosa di quanto avesse immaginato e questo improvviso improvvido imprevisto spuntare di righe chiare su una pelle ancora giovane le appariva inaccettabile intollerabile francesca si spostò dallo specchio prese il cellulare e fotografò il punto esatto di quella incresciosa imperfezione salvò la foto sotto la cartella urgente e si rimise a studiare Dante le terzine della divina commedia le saltellavano davanti agli occhi in modo disordinato e scomposto versi e parole senza alcun senso lo sguardo correva a catturarle ma loro beffarde si confondevano con pensieri che portavano molto lontano da quell'inferno sofferenza ansia paura rabbia erano tutte erano tutte lì a tormentarla e nessun giovamento le arrivava né dai dannati del girone dei vissuriosi né da quello dei golosi o degli ignavi quindi qui abbiamo una ragazza una studentessa alle prese col cambiamento le prese col cambiamento del suo corpo perché appunto rimane rimane incinta dopo che non si fa d'amore più che d'amore di sesso ecco quindi dice che lo specchio le restituiva quest'aspetto stanco sguardo vuoto un corpo in cui stentava a riconoscersi questa invece è la fine del racconto la mano scorreva su e giù sulla coscia nuda a voler cancellare l'impurità francesca contraeva i muscoli e li rilasciava subito dopo come a voler stuzzicare un ospite indesiderato che non vuole andarsene via stringi e lascia contrai allenta muovi blocca alza abbassa strizze spremi pungola e pizzica prima la coscia poi la natica prima la natica poi la coscia in un ritmo sempre più concitato e insofferente a tutti i mali del mondo e mentre strofinava via con forza la vergogna copiose lacrime le si addensavano agli occhi fissando la piccola culla in vimini vuota appoggiata al nudo muro della stanza non c'era spazio per un figlio inaspettato per una gravidanza non voluta per un uomo che a malapena ricordava il suo viso in notti di sesso scambiate per amore quindi qui ho letto l'inizio la fine poi ovviamente c'è tutta una un'evoluzione ma è sempre come vedete il focus sui sentimenti sul percepito e sulla questa passione che non è non era amore vero ma era era solo stesso insomma quindi questo è beh non so io direi che ho letto anche troppo spero spero di avere appunto un feedback da chi è una da chi è collegato e di sapere magari se è piaciuto se non è piaciuto e farò altre presentazioni ai circoli svizzeri ma voi siete i primi quindi vi devo ringraziare perché mi avete dato questa opportunità anche se solo online ma d'altra parte siamo ancora in se non in emergenza però non bisogna abbassare la guardia quindi giusto prendere le precauzioni però voglio verrò a Roma eh voglio tornare voglio tornare da voi perché anche due anni fa siete stati veramente accoglienti carini gentili insomma di più di più e con Rossana ci sentiremo e ci vedremo visto che abbiamo questo pendolarismo svizzera Italia sì certo se vuoi venire a presentare qua i tuoi le tue cose organizziamo il mio prossimo libro uscirà in maggio dalla casa editrice di Torino che si chiama Lindau il titolo è Elsa Morante vita di una donna geniale caspita quindi una bella sfida complimenti bene bene ecco grazie allora vi ringrazio tutti per aver partecipato e se la presentazione vi è piaciuta comprate il libro e leggetelo poi fateci sapere che cosa ne pensate anche delle illustrazioni questo è stato bellissimo grazie grazie al nostro moderatore a Valentina e a Barbara che sono state le tre donne che hanno animato la serata e con loro faccio gli auguri e di buona Pasqua a tutti quanti e speriamo di rivederci in tempi migliori e magari di presenza anche se lo zoom non è da disprezzare perché ci permette comunque di organizzare cose in tempi molto rapidi senza che ci dobbiamo andare a spostare e a cambiare le nostre abitudini comunque ci dà un ottimo mezzo di comunicazione che secondo me va mantenuto ed è importante perché gli incontri in presenza danno molto ma anche questo sono dei messaggi importanti che ci trasmettono e la presenza di ognuno di noi di nuovo grazie a tutti per essere intervenuti e buona Pasqua e a presto grazie a tutti